Posso parlare dei miei programmi, il fatto che il contratto non ci sia ancora, quindi voglio dire questa è la mia situazione, quindi non voglio andare al di là di quello che sono le mie competenze, se volete vi parlo dei miei programmi, il fatto che appunto stiamo cercando con la RAI di trovare un accordo, sottolineo, non è tanto economico, ma strategico, di valorizzazione di programmi che tra l'altro valorizzano il nostro patrimonio culturale e credo che sia una cosa molto importante, che sia la cosa più importante. Se parlate di uno spazio dove entra io, chiedetelo al direttore, ragazzi, io sono ancora in fase di colloquio e di confronto per il mio contratto, quindi il futuro... Però la tua casa resta la RAI? Tutto in movimento, nel senso stiamo parlando, quindi di più non posso dire.